In Italia ci sono 350.000 piccoli negozi alimentari e abbiamo visto che quotidianamente alcuni di essi purtroppo si trovano in prossimità dell'orario di chiusura e sono costretti a buttare via il cibo. Può essere la pizza in panetteria, possono essere l'ancine siciliano, un girarrosto che ha 5 polli che girano e non riesce a vendere. L'idea è stata quella di dire che se questo negoziante, anziché buttare con uno spreco per il pianeta e per le proprie casse, potesse informare con grande semplicità, ormai tutti abbiamo uno smartphone in tasca, i cittadini che abitano a due passi dal negozio dicendo che hanno ancora 5 polli arrosto che girano sullo spiedo, anziché 5 euro ve li do a 2 euro. Ecco, in questo momento la cittadinanza, i cittadini che abitano a due passi sarebbero informati e potrebbero scendere, fare due passi e andare a prendere quel pollo. Vince il negoziante che incassa qualcosa che probabilmente non avrebbe incassato, ma soprattutto vede nuova gente entrare nel punto vendita e questo è il punto che sta piacendo molto. Vince il cliente che compra un prodotto fresco, assolutamente edibile, a un prezzo 50, 60, 70%, questi sono gli sconti con cui abbiamo visto che vengono i prodotti e soprattutto non viene buttato via del cibo, quindi aiutiamo il pianeta. La quantità di alimenti che vanno sprecati lungo la filiera alimentare ammonta circa un terzo del totale, una cifra impressionante che è spesso oggetto di studi e di iniziative che cercano di abbassarla. Si inserisce in questo settore il progetto Last Minute Sotto Casa contro lo spreco alimentare degli esercizi commerciali. Nato a Torino e già diffuso fra 20.000 utenti e 400 negozi, offre un sito internet con la collaborazione dei commercianti che mettono online tutte le loro offerte giorno per giorno in presenza di alimenti a rischio di reperimento. Tutto con l'obiettivo di mettere insieme l'interesse dei commercianti che a fine giornata si ritrovano con un prodotto invenduto, quello dei clienti sempre alla ricerca dell'offerta più conveniente ed infine quello dell'intero pianeta che vede diminuire lo spreco di cibo. Noi intendiamo che Expo, nutrire il mondo, nutrire il pianeta, significhi anche ripensare ad un modello di sviluppo basato sullo spreco. In questo senso Last Minute coglie un'esigenza che noi consideriamo eccezionale nella sua semplicità e nella sua originalità.